Mio caro vecchio amico ti voglio raccontare una breve storiella di uomo un po' speciale C'era una volta in un paese non molto lontano un tale conosciuto col nome di Vergano Si raccontava in giro che quasi da trent'anni e pur essendo muto era il più grande Don Giovanni Tutti si domandavano che cosa affascinasse le donne del paese le dame di gran classe D'onde proviene di queste donne il turbamento? E lui rispose con un disegno in un momento Passarono dei mesi trascorse qualche anno ma nessuno aveva compreso il disegno di Vergano Fu messo ben esposto al centro del museo fu fatta una scultura ed anche un mausoleo Chiamarono degli esperti nell'arte del disegno i più grandi esponenti tra le umane genti La voglia di sapere il suo significato la potrà soddisfare soltanto il buon vergato Dici cos'è? Dici cos'è? Vessi e perché? Donde proviene di queste dame il turbamento? Dici cos'è? Vessi e perché? E lui sorrise e mostra a tutti il suo grattaccio C'è chi ... Grazie a tutti Grazie a tutti